Lo stadio Artemio Franchi con il progetto ALU non si farà male. Abbiamo detto, caro Dario Nardella, fai l'accordo con Giorgia Meloni. Abbiamo detto, in Parlamento, cara Giorgia Meloni, fai l'accordo con Dario Nardella. Non c'è bisogno di far causa, c'è bisogno di fare un accordo. Il senatore Matteo Renzi sui soldi del PNRR per lo stadio Franchi di Firenze si era già espresso chiaramente, il suo no era netto. Ma dopo l'annuncio di Palazzo Vecchio di voler presentare il ricorso al TAR contro lo Stato con richiesta dei danni per i 55 milioni di euro saltati e a due giorni dalla gara per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori andata deserta il Comune farà fare ad Arup il progetto esecutivo sperando che alla seconda chiamata a metà novembre risponda qualcuno torna a ribadire la sua posizione. Il metodo Casini a Bagno a Ripoli ha funzionato, Firenze ha usato il metodo Casino che osa in una battuta. Io non sono il sindaco di Firenze, c'è un sindaco e c'è un presidente del Consiglio. Siccome però ho fatto tutti e due so che c'è un'opportunità bellissima per la città. Per tornare al vecchio progetto dello stadio della Fiorentina al Campo di Marte fatto da Casamonti e contemporaneamente i soldi che l'Europa e lo Stato erano pronti a dare a Firenze mettiamoli per le case popolari, per la cultura, per il sociale, per le scuole. Ma l'accordo per togliere i vincoli che impediscono di abbattere le curve fu questo lo stop al progetto di riqualificazione privata della Fiorentina firmato Casamonti e soprattutto per redistribuire i 90 milioni del PNRR destinati allo stadio su altri progetti. È fattibile? C'è la volontà del governo? Palazzo Vecchio ha sempre risposto di no a entrambe le domande. Renzi invece è sicuro del contrario. A questi punti non è neanche chiaro se Italia Viva voterà in Consiglio Comunale lo scostamento di bilancio di 10 milioni per la risistemazione del Padovani, lo stadio di rugby dove potrebbe giocare la Fiorentina durante i lavori del Franchi. Speriamo non ci si arrivi nemmeno rispondono le consigliere renziane. Matteo Renzi mette insieme una fila di ve l'avevo detto perché Nardella dovrebbe ascoltarlo ora se non lo ha fatto in passato. Io penso che tre mesi fa avevamo detto fate un accordo perché l'Europa non ci darà i soldi. Che è successo? L'Europa non ci ha dato i soldi. Poi abbiamo detto guardate la gara non ha senso aspettarla e la gara è andata deserta. Io sono ottimista che prima o poi si capisca che noi non stiamo facendo una posizione politica come Italia Viva per far polemica ma una posizione di interesse dei fiorentini.